Ora punto primo, gira da più parti un video del 2019 nel quale io facendo benzina con la mia auto parlavo della necessità di tagliare le accise sulla benzina e ovviamente non avendo il governo deciso di modificare la norma del precedente governo che prevedeva che il taglio delle accise sarebbe terminato alla fine di quest'anno si è detto la Meroni è incoerente perché in campagna elettorale vi promette alcune cose e poi al governo ne fa altre. Ora siccome io sono una persona abbastanza seria non è un caso che quel video sia del 2019 e non di questa ultima campagna elettorale perché capiamoci sono ancora convinta che sarebbe ottima cosa tagliare le accise sulla benzina il punto è che si fanno i conti con la realtà con la quale ci si misura e non sfuggirà a chi non ha dei pregiudizi che dal 2019 ad oggi il mondo intorno a noi è cambiato e purtroppo noi abbiamo stiamo affrontando una situazione emergenziale su diversi fronti che ci impone di fare alcune scelte quindi punto primo io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina banalmente perché sapevo qual era la situazione di fronte alla quale mi sarei trovata dopodiché sono fortemente speranzosa della possibilità che prima o poi riusciremo a fare un taglio strutturale però non temporaneo delle accise ma questo necessita di una situazione diversa quella che stiamo affrontando e soprattutto necessita di rimettere in moto la crescita economica di questa nazione.